Sciocca il secondo piano di pediatria dove c'è la terapia intensiva e sono ricoverati i bambini più gravi. Dal controsoffitto è infatti caduto un topo che si è poi dileguato fuggendo tra i letti. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Luciano Flora ha immediatamente disposto la chiusura del reparto per la disinfestazione e il trasferimento dei letti dei piccoli pazienti.